Il riscatto del Molise interno passa anche per l'eventuale difficile successo di Agnone, capitale della cultura. Dal Consiglio regionale il sostegno unanime al progetto. Giocarsi fino in fondo una opportunità turistica, sociale e occupazionale come Molise intero, questo il senso della presentazione fra pochi giorni a Roma di Agnone, capitale della cultura italiana per il 2026. Lunedì 4 marzo nella sala Spadolini ci sarà un'intera regione a sostenere il progetto di una terra troppo spesso vilipesa e sottovalutata, come molte altre volte accade ai paesi delle zone montane e impoverite dall'emigrazione. Oggi le aree interne vivono un momento estremamente delicato e Agnone rappresenta lo specchio di questa situazione, ma la sua storia, l'arte, il patrimonio architettonico, la pontificia fonderia e l'artigianato possono fare la differenza per tagliare un traguardo mai raggiunto finora. L'impresa resta difficile tra le dieci finaliste dell'intera penisola, ma l'apporto dell'intero consiglio regionale fa ben sperare per quel riscatto sociale così agognato. Al di là di schieramenti politici, il Molise sta dimostrando unità e spirito di collaborazione che fanno ben sperare. A Palazzo Daimmo la politica ha sposato l'idea di Agnone capitale della cultura in maniera bipartisan e che in futuro l'appoggio sarà per ridare dignità e speranza a territori depressi messi all'angolo. L'eventuale successo potrà assicurare prestigio e riconoscibilità per l'intera regione e produrre flussi turistici ed economici. Una candidatura maturata nel quadro di un processo di sviluppo sostenibile di una cittadina che si pensa come riferimento ed esempio di quel margine periferico dell'Appennino italiano.